Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Notte della vigilia con polemiche ad Arezzo in particolare nel quartiere dell'Orciolaia. Vediamo cosa è successo. Si sarebbe vista negare la comunione perché è arrivata in ritardo alla messa. Questo quanto ci ha raccontato una fedele, un episodio che ha creato qualche attimo di tensione in chiesa alla vigilia di Natale. Sarebbe successo in una delle parrocchie più popolose della città, quella di Gesù Cristo Divino Lavoratore Sant'Egidio nel quartiere dell'Orciolaia. A denunciare quanto è accaduto una parrocchiana che abbiamo incontrato fuori dalla chiesa. La donna ci ha raccontato di essere entrata con qualche minuto di ritardo durante la prima lettura e di essersi seduta nelle file in fondo per non dar fastidio. Il sacerdote Don Danilo Costantino, da pochi mesi insediato nel ruolo di parroco, le avrebbe negato l'ossia proprio perché arrivate in ritardo. Mi ha rovinato la vigilia, chiosa, delusa la donna. Qualche problema sembra che ci sia, se non altro perché abituati in un certo modo dai vecchi parrocchi, oggi il nuovo parroco sta dando dei indirizzi diversi. Nell'episodio è stato già informato anche il Vescovo Andrea Migliavacca. È una cosa che non va bene, il Vescovo lo sa, glielo ho comunicato. Io so, quella volta l'ha fatto sicuramente, però dopo... Che ne pensa lei? Che siamo la frutta. Vescovo Andrea, lei è stato informato di quello che è accaduto nella parrocchia dell'Urcelaia? Diciamo che io non sono semplicemente stato informato, ma per approfondire ho parlato con Don Danilo. E io faccio queste considerazioni. Anzitutto mi spiace per tutta la situazione che si è creata e anche per chi eventualmente non si fosse sentito accolto. La questione forse è legata a una situazione particolare per come l'ha valutata lui, quindi non da estendere a un modo di fare perché già in un dialogo e in un cammino precedente con Don Danilo si è valutato e sottolineato questa importanza di accoglienza alle persone e della comunione che va data a coloro che vanno a chiederla e a riceverla. Furto in un supermercato nella notte di Natale a Camucia nella comune di Cortona. I ladri sono riusciti a penetrare nottetempo all'interno del supermarket e impossessarsi delle casse. Poi si sono allontanati con un bottino che si stima essere circa 2.500 euro. E adesso una storia a lieto fine, quella raccontata da Fabrizio Piervenanzi che in questi giorni di festa ha voluto ringraziare chi la scorsa estate gli ha salvato la vita. Un malore improvviso ne aveva infatti compromesso le funzioni vitali e solo grazie all'intervento repertino del personale sanitario della misericordia di Monte San Savino sono state scongiurate tragiche conseguenze. Così per rendere omaggio ai professionisti della sanità ha deciso di inviare al personale del centrale 118, a quello della cardiologia e quello della misericordia savinese, dei panettoni per festeggiare questo Natale. E adesso torniamo invece a parlare del maltempo dello scorso 2 novembre anche i comuni dell'Arettino danneggiati potranno beneficiare dei ristori. Erano stati esclusi dall'emergenza nazionale per l'alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre perché non ne sussistevano le condizioni. Adesso per tutti coloro che hanno subito danni anche nel territorio Arettino potrebbe aprirsi uno spiraglio. Nel comune di Castelfo Cognano una forte tromba d'aria aveva divelto tetti e grossi alberi. Nel comune invece di Civitella in Valdichiana c'erano stati danni sempre per grossi alberi caduti, tetti, divelti ed era stata colpita anche un'azienda costretta a cercare un'altra sede per lavorare. Nella seduta del Consiglio regionale dello scorso 21 dicembre è stato approvato un ordine del giorno presentato dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci proprio sul ristoro per i danni nel territorio della provincia di Arezzo impegnando così il presidente Gianni e tutta la giunta a ristorare appunto anche i comuni dell'Arettino. L'ordine del giorno è stato sottoscritto anche da tutti gli altri consiglieri regionali eletti in provincia di Arezzo Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis e Gabriele Veneri ed è stato approvato da tutto il Consiglio regionale. Adesso dalle parole dovremmo passare ai fatti. La Cisla di Arezzo ha organizzato invece per giovedì 28 alle 11 una flash mob aperta tutta la cittadinanza in Piazza Sai Jacopo per esprimere la propria contrarietà all'aumento dell'addizionale regionale IRPEF. Il punto di vista del sindacato è quello di ribadire il proprio no alla decisione della regione presa secondo i sindacati senza alcun confronto con le forze sociali ed economiche. Cisla propone dunque questo momento di confronto per cercare soluzioni alternative. E adesso torniamo a parlare della stazione Medio Etruria, la stazione di alta velocità che continua a far discutere. Ad accendere ulteriori polemiche adesso un video postato sui social dall'assessore Umbro Melasecche. Oggi proviamo a vedere, andando tranquillamente alla velocità consentita da Perugia a Creti per vedere quanto ci vuole e quanto ci vorrà una volta che avremo realizzato la nuova stazione alta velocità. Continua a far discutere la stazione alta velocità Medio Etruria, ad accendere le polemiche adesso questo video realizzato dall'assessore regionale all'infrastruttura e ai trasporti dell'Umbria Enrico Melasecche. Un filmato diffuso tramite social che mostra il tempo di percorrenza in auto da Perugia a Creti, posizione indicata da RFI gradita dalla regione Umbria a scapito dell'alternativa di Rigutino, molto più vicina ad Arezzo e storicamente caldeggiata dal comitato Sava. Siamo arrivati dove siamo a Creti, 35 minuti, una velocità molto tranquilla. Il tempo di percorrenza Perugia-Creti dunque secondo l'assessore Umbro sarebbe 35 minuti e proprio su questo punto interviene il comitato. Questo video è molto curioso perché comunque come si vede inizialmente l'assessore Melasecche dice appunto di voler testare questa percorrenza fra Perugia e Creti rispettando poi i limiti stradali e appena pochissimo dopo pochissimi secondi si vede appunto il tachimetro dell'auto in cui viaggia Melasecche che segna 115 km orari che è certamente una velocità al di sopra dei limiti consentiti. E' già lì subito il primo autogol. E poi arriva a Creti, al cartello Creti, neanche nella location poi della stazione ma solamente nel paesino di Creti. Ora questo è stato un test senza traffico e non in orari poi di punta eccetera. basterebbe, basta guardare qualsiasi notiziario su internet per vedere poi i vari rallentamenti e incidenti che avvengono purtroppo nel raccorto Perugia-Pettolle. Quindi questi 35 minuti non sono veritieri assolutamente. E' una storia di riscatto quella che arriva dalla Valdarno dove migranti che arrivano dall'Egitto, dal Bangladesh, dal Pakistan, dalla Nigeria e anche da altre zone di Africa e Asia, lavorano a Ciole che andranno poi alla Ferrero per dar vita alla Nutella. Protagoniste di questa storia una cooperativa sociale Beta 2, un'azienda pubblico-privata Centro Servizi Ambienti Impianti SPA che gestisce due discariche di proprietà per rifiuti urbani assimilabili agli urbani per rifiuti speciali non pericolosi ed infine un'azienda agricola la Riofi che vede Xai al 91% e Beta 2 al 9%. La cooperativa storicamente è tra i soggetti che hanno sempre risposto ai bandi delle prefetture per l'accoglienza dei migranti e attualmente ospita tra il Valdarno e l'area Retina 40 migranti, 19 di questi nell'azienda agricola proprio valdarnese e 4 hanno già iniziato a lavorare nei noccioliti. E continua con successo e partecipazione anche il servizio di aiuto compiti attivato dal Comune di Poppi con la collaborazione della cooperativa Progetto 5 che ha messo a disposizione le competenze di due educatrici formate. Si tratta di un vero e proprio supporto alle famiglie dei bambini che frequentano la scuola primaria e che è stato esteso dallo scorso anno anche ai ragazzi di terza media in vista della preparazione degli esami. Oltre alle due educatrici fanno parte del progetto anche dieci volontari. E adesso voltiamo pagina, manca infatti meno di due settimane all'avvio dei saldi invernali. La data ufficiale per la Toscana scatta alla vigilia dell'arrivo della Befana. Si avvicina all'inizio dei saldi invernali in Toscana. La data delle svendite di fine stagione è stata indicata dalla Regione ricalcando il calendario deciso in altre zone d'Italia. gli sconti inizieranno alla vigilia dell'Epifania e dunque il 5 di gennaio. Ci sarà tempo 60 giorni fino al 5 di marzo per potersi accaparrare prodotti a prezzi scontati. Federmoda e ConfCommercio ricordano le regole base. Innanzitutto la possibilità di cambiare il capo dopo che è stato comprato viene generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme al codice del consumo. Sempre a discrezionalità del negoziante anche la possibilità di far provare o meno i capi di abbigliamento. Gli articoli proposti in saldo devono avere carattere stagionale ed essere suscettibili di notevole depreciamento. Il negoziante ha l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale e di accettare i pagamenti con carte di credito. Adesso ci spostiamo a San Giovanni Valdarno dove è finalmente tornato il fontanello dell'acqua. Questo è il primo fontanello collocato nel quartiere Ultrarno. Abbiamo scelto questo quartiere perché è la zona in cui funziona di più l'erogazione di acqua attraverso questa modalità. Ne sarà collocato un secondo nel 2024 nel quartiere Bani. È stato inaugurato il primo fontanello di San Giovanni Valdarno, installato in via Legiotto e realizzato da Publiacqua. L'unico attualmente funzionante perché quelli precedenti non funzionano più e il gestore precedente ormai è decaduto nella sua funzione per cui abbiamo cercato noi negli anni passati di mettere a gara la possibilità di distribuire l'acqua nella forma del fontanello. Non abbiamo trovato nessun soggetto disponibile a farlo e poi grazie a questa delibera del light dell'autorità idrica toscana insieme a Publiacqua siamo arrivati ad oggi. Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio sono oggi installati 122 fontanelli che nel periodo dal 2017 al 2023 hanno erogato 229 milioni di litri di acqua con un risparmio per l'ambiente di oltre 152 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo non prodotte, trasportate e smaltite e per le tasche delle famiglie oltre 48 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie. Il risparmio di plastica è un risparmio importante. Se si considera che 25 bottiglie da un litro e mezzo portano un consumo di quasi un chilo di petrolio, ecco, questo è il principale risparmio ambientale che c'è. Poi è un ottimo segnale, c'è un ritorno di riacqua, c'è un senso di ritorno dell'acqua come bene pubblico per la cittadinanza. Gloria in cielo e pace in terra è il titolo del concerto dell'Associazione Corale Sinfonia che andrà in onda questa sera dopo il telegiornale alle 22.30. Ieri e oggi pomeriggio è tornato, dopo tanta attesa, il presepe vivente di Pietraia, la tradizionale rappresentazione della natività nel borgo della Valdichiana che ha tra i prossimi appuntamenti quello del primo, del 6 e del 7 gennaio, il giorno dell'Epifania e invece il tradizionale concerto delle Magi. Vediamo. Sicuramente si può definire uno scenario naturalistico che desidera comunque preservare le caratteristiche di un bosco e dimostrare che in mezzo alla natura si può vivere. Non c'è niente di sostanze particolari, oggetti particolari, è tutto legno e non trattato, quindi anche biocompatibile. Una piccola betlemme è ricostruita all'interno di un bosco a Pietraia, nel comune di Cortona. Il presepe vivente di Pietraia è uno dei più longevi del territorio aretino, la prima edizione risale al 1991. Circa 60 ai volontari impegnati nella cura di questo evento che è davvero molto suggestivo. Dopo 30 anni si ripete una magia. Sì, esatto. Io 30 anni fa, proprio in questa capanna, in questo bosco, ho fatto il Gesù Bambino e 30 anni dopo ho la mia bambina che farà a sua volta Gesù Bambino. Una vera e propria passeggiata di Natale, immersi nella bellissima natura del boschetto che si trova dietro la chiesa, con il cammino illuminato da candele e fuochi. Eh sì, il fuoco, il fuoco meraviglioso, con le lanterne, le torce. Facciamo anche molto con la nostra fantasia, con le ricerche storiche, perché alla fine cerchiamo di fare delle ricerche, di riprodurre quello che c'era ai tempi di Gesù. Dopo le uscite in occasione del Santo Natale, nel giorno di Santo Stefano, il presepe vivente a Pietraia di Cortona torna il primo, il 6 e il 7 di gennaio, a partire dalle 17.30. O come, let us adore Him, Christ the Lord E proprio Cortona è una delle città raccontate nello scambio. L'ultimo libro di John Grisham, autore americano, che ha venduto più di 300 milioni di libri nella sua carriera. E ottobre è uscito con l'ultimo volume sequel di uno dei suoi più grandi successi, Il Socio. In Lo Scambio, i due protagonisti, in viaggio da Manhattan a Roma, scoprono il borgo etrusco e ne restano innamorati. E sempre in Valdichiana, dal 28 gennaio al 18 febbraio, a Foiano, torna per la sua tredicesima edizione il premio biennale nazionale di pittura, in concomitanza con il Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d'Italia. L'obiettivo del premio è quello di valorizzare artisticamente e culturalmente il territorio foianese e la sua manifestazione più famosa attraverso l'arte contemporanea. Ed è stato invece una Natale all'insegna della solidarietà alla casa di riposo Fossombroni. L'arrivo delle festività è stato infatti anticipato da un rinnovato moto di generosità da parte della città che tra donazioni e visite ha dimostrato vicinanza ed affetto agli ospiti dello storico Istituto Aretino. Tra le tante donazioni, anche dolci e specialità tipiche che hanno permesso di arricchire la tavola dell'Istituto. E adesso passiamo alla pagina dello sport. L'Arezzo calcio femminile comunica di aver perfezionato cinque operazioni in uscita e tre in entrata. Le calciatrici Plone e Recorazzi passano a titolo definitivo al Parma in Serie B, Sara Tonnelli e Simona Zito invece si accasano rispettivamente al Chievo e alla Freedom sempre in Serie B, mentre Allegra Bartolini e Valfrosinone in Serie C. L'Arezzo contestualmente annuncia l'arrivo di tre nuove calciatrici, il primo è un ritorno in maglia Amaranto di Claudia Cagnina. L'Arezzo calcio femminile poi dà il benvenuto anche a Giorgia Miotto e Melissa Tumei. E mancano pochi giorni all'11 gennaio, il diciannovesimo anniversario della prematura scomparsa di Fabrizio Meoni. E dal 22 dicembre amici e conoscenti dell'indimenticato Centauro Castiglionese si sono ritrovati di fronte alla sua statua lungo la regionale 71 per salutare la nuova illuminazione dell'opera che la renderà ancora più visibile durante le ore notturne. Questa nuova opera di illuminazione permetterà al monumento dedicato a mio padre di diventare maggiormente visibile anche di notte, ha commentato il figlio Gioele Meoni che tra pochi giorni partirà alla volta della Dakarra. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.